Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche una gecgino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, creni a tanti e lunghi e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre, faccio un attrezzo. Ok, resti. e riportiamo da una parte, così abbiamo un po' il collo libero. e comincio con un po' di scratching con le mie unghie sulla porta superiore della schiena, che secondo me è sempre quello un po' più sensibile ai grattini. perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce? La risposta è che questo è un video, quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini. quelli che ad esempio si possono provare o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini nella schiena, così. ok. ok. adesso prima di provare a scrivere un po' di parole facciamo un po' di disegno, facciamo un po' di onde del mare. questo non è un po' di quanto. adesso prima di provare a scrivere un po' diكم. ok. il sole con tanti raggi e una nuvola come oggi, mi sente un po' monovoloso un soleggiato monovoloso un sole 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 ok adesso proviamo con qualche parola ovviamente cominciamo con relax per essere molto scontati un sole 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 un sale un sole un sole un sole la cosa che a me piace di più sono i cantini qui sul collo quelli che poi scendono sono stupendi poi scendono sulle spalle, sulla schiena ok allora proviamo una parola vediamo, vediamo, vediamo suggerici una parola? Sviva S V E V A Sviva perché non lo sapesse è un cane ed è in particolare una canellina che è di razza S E D D D E R è un bel sentato ok allora con il bianca ma è ora un libro che si chiama le istanze di lavanda quindi andiamo un po' a scriverlo S I S D A N Z A D D L L A V A N D A E poi abbiamo S M D D A L L L L L L L And A A-L-A-M-D ok ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con un massaggiatura ok Grazie a tutti. Posso la spalla. Si sto in siluica. Ok, allora ho una serie di pennelli qui. Io ho scelto questi tre, super morbidi. Uno, due e tre. Ok, andiamo a fare un po' di brushing. Anche un po' sul colore. E' super morbido. E vado un po' prima sui contorni della schiena. In questo modo. E poi vado a riempire. Come se fosse un cuore. E' super morbido. Qu'è se fosse un po' di mangiare? E' super morbido. E' super morbido. Ok. E' super morbido. Andiamo sul collo, sulle spalle, e giù, e su, e su, e su, e su, e su, e su. in questo modo facciamo anche la cosa di sireno di casamento grazie usiamo anche l'altro queste coperte sono bellissime questo è molto più largo non ho mai capito cosa sarebbe questo pennello tanto a me sarebbe fare video e piang 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 costumante seguendo il informe della schiena ora andiamo a fare di nuovo un po' di scrittura sulla schiena un po' di disegnini cominciamo con un bel triangolo facciamo un quadrato più o meno cancelliamo facciamo un rettangolo cancelliamo facciamo un bel giro cancelliamo questo è ancora stilizzato ha un triangolo abbiamo una porta e due di mestrelle le minuti artistiche sono veramente apprezzabili l'algamino con delle fombe e poi abbiamo l'erba tutta qui il tipico di bambino un albero e tanti fiori di rini un'altalena e poi poi facciamo due nuvolette e il sole e il sole lo rompo lo rompo e si spalle e si spalle e intanto vi auguro una buona giornata una buona giornata spero che questo video vi abbia rilassato vi abbia fatto quasi chiedere gli occhi quasi o del tutto buonanotte no buonanotte buonanotte sogni d'oro ritmo calispeto chiamata gli